Cinque pratiche straordinarie da mettere in azione ogni mattina. Appena ti alzi, appena apri gli occhi, inizia con la gratitudine. Wow! Sono vivo, sono viva. Inizia a pensare a tre cose belle che ti sono successe il giorno prima. Inizia con questo esercizio straordinario della gratitudine. Il secondo punto è impegnati ad osservare per il resto della giornata il lato positivo delle cose, il lato positivo di te e il lato positivo delle persone intorno a te e il lato positivo delle situazioni. Ci sono delle situazioni che ti piaceranno, delle situazioni che non ti piaceranno a livello razionale ma che saranno un grande insegnamento per la tua vita. Il papà un giorno mi regalò una macchina fotografica e mi disse spetta a te scegliere l'inquadratura con cui vuoi scattare la vita. Profonda riflessione del papà quando ero piccolo che mi ha toccato. Tu scegli l'inquadratura della vita. Cosa vuoi osservare? Ogni medaglia ha due facce. Tu quale faccia vuoi guardare? Quindi ogni mattina quando ti alzi scegli l'inquadratura positiva della vita. Terzo punto, abbi fede del progetto divino. C'è un progetto molto più grande e ricordati che l'universo non fa errori. Non ci sono errori nel piano universale. Abbi fede di quel piano universale. Altra cosa, c'era un generale della marina che disse ogni mattina, ed è il quarto punto, rifatti il letto. E quella è una lezione straordinaria perché così come tu fai le piccole cose così fai le grandi cose. Diceva il buon Harv Eker come fai le piccole cose così fai le grandi cose. E il letto è un piccolo passo. Fallo bene. Perché? Perché è un trucco. Fare bene ti fa stare bene. e se tu fai il letto bene stai bene ed è un piccolo gesto. Ma come fai le piccole cose così farai le grandi cose. Quinto passo impegnati a fare beneficenza nei confronti di qualcun altro. Perché? Perché non esiste l'altro. Perché siamo tutt'uno. E quando tu fai bene agli altri fai bene a te stesso fai bene a te stessa. è un altro barbatrucco. Fai beneficenza ogni giorno. Fai del bene ogni giorno a qualcuno. è un altro barbatrucco. Fai beneficenza ogni giorno. Fai beneficenza ogni giorno.